Mi sembra sempre il dover combattere una guerra sulle fronti, contro i terroristi perché anche a me questa violenza crea angoscia, contro l'ignoranza perché da musulmana, donna velata, chiedo di non espiare i peccati di chi compie violenza. La mia vita è la mia vita. I soldi che ricevono, cerchiamo di capire quanti sono, non è che si autogestiscono, no? Cioè arriviamo a capire che qualcuno c'è dietro, qualcuno lavora per loro. La differenza sta nel dottore diverso, e l'aspetto diverso possono ritroverare, non hanno mai avuto quello che amiamo tutti noi. Il guaio è che non si riesce a trovare un italiano che sia onesto, è piccolo e scuro, non si sa l'album. Il guaio è il luogo della giornata internazionale contro ogni discriminazione e razza. Noi della seconda oasi di Domodossola, lo stiamo costruendo per presentarmi il 21 marzo. Noi della seconda oasi di Domodossola, lo stiamo costruendo per passare. Grazie.